Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del Tg6. In apertura il consueto bollettino sull'andamento dell'epidemia. Quest'oggi in Abruzzo sono 22 nuovi casi di Covid. Il più giovane 3 contagiati ha 3 anni, il più anziano ne ha 55. Di questi 9 sono residenti nella provincia di Chieti, 8 in quella dell'Aquila, 6 nel Terramano e nessuno nel Pescarese. E' quanto emerso dall'analisi di 2352 tamponi molecolari per un tasso di positività dello 0,9%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.507. Si tratta di una 79enne della provincia di Chieti. I guariti rispetto a ieri sono 78 e gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.302, 57 in meno rispetto a ieri. Di questi 56 pazienti, 5 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. Uno solo, 2 in meno rispetto a ieri, è il paziente in terapia intensiva. Mentre gli altri 1.245 positivi accertati, 50 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. E a proposito di sanità, l'ultima seduta della Commissione Sanità della Regione Abruzzo, chiusa in appena 15 minuti, ha scatenato l'ira e le proteste delle opposizioni. Giorgio Fedele, consigliere regionale dei 5 Stelle, l'ha definita l'ennesima brutta pagina politica della Regione Abruzzo. Consigliere regionale Giorgio Fedele, ieri in Commissione Sanità è andato in scena uno scontro, possiamo dire, tra l'opposizione e la maggioranza, in particolare contro il Presidente della Commissione Sanità, Mario Quaglieri. Al centro resta la questione della rete ospedaliera. Ennesima bruttissima pagina, sia politica che istituzionale e regionale, ieri in Commissione, inconcepibile l'atteggiamento assunto dalla maggioranza, in particolar modo dal Presidente Quaglieri, che hanno per l'ennesima volta dimostrato tutta l'inaquideguatezza nel ricoprire un ruolo così importante, soprattutto per la discussione di una tematica così importante, cioè la rete ospedaliera. 15 minuti è il tempo che è durata la Commissione, il Presidente Quaglieri ha aperto e ha deciso unilateralmente e violentemente di chiudere la Commissione, tagliando corto a ogni discussione. Se il Presidente pensa di aver fatto uno sfregio ai consiglieri d'opposizione, si sbaglia grandemente perché in realtà il danno, il vero sfregio è stato fatto a tutti gli abruzzesi, specialmente se si tiene presente quella che è la bozza, quella che avrebbe dovuto essere la base di discussione di ieri, che una bozza è una rete ospedaliera che penalizza soprattutto la Asl1, quindi tutta un'area interna della Regione Abruzzo, andando a fare i conti con una forma di retroingegneria, data la poca chiarezza che fino ad oggi c'è stata da parte della maggioranza, vengono fuori dei numeri lapidari, solo 19 posti letto in più per l'Asl01 a fronte dei 91 dell'Asl02, dei 70 dell'Asl03 e dei circa 50-60 dell'Asl04. Il commento non può essere che negativo nei confronti sia di un atteggiamento che dimostra, come ho detto, ignoranza non soltanto delle procedure interne dell'istituzione su come devono essere portati avanti e gestiti i lavori, ma soprattutto una grande violenza nei confronti dell'opposizione e dei cittadini che devono conoscere quello che li aspetta e quali sono le scelte di questa maggioranza. La cronaca ci porta ora a Pescara, preso a tempo record dopo aver accoltellato e rapinato ieri in Piazza Sacro Cuore, un 57enne dietro l'agguato, ci sarebbero motivi non riconducibili però alla rapina. Stefano Recanati Risolto a tempo di record dagli agenti della Polizia di Stato di Pescara l'accoltellamento di ieri sera in Piazza Sacro Cuore, l'ipotesi iniziale di rapina dell'orologio della vittima ha lasciato il passo ad un agguato per motivi diversi al vaglio degli inquirenti. Al termine delle indagini andate avanti nella notte scorsa hanno portato all'arresto di un 51enne con l'accusa di tentata rapina e lesioni volontarie pluriaggravate. Due complici, fra cui una donna, sono stati identificati e indagati in stato di libertà. Il 58enne accoltellato, originario della Lombardia, è ricoverato in ospedale ma fuori pericolo. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Fabiana Rapino. Una operazione rapida, grazie all'impegno degli uomini che mi onoro di dirigere e di tutto il personale impiegato anche nel servizio di controllo del territorio. Si è arrivati immediatamente a una coppia di sospettati, raggiunta praticamente sotto la loro abitazione quando non erano ancora tornati dalla rapina o giù di lì. Una notte di lavoro impegnativa che ha portato poi anche all'identificazione e alla denuncia del terzo concorrente. Un dato che ci viene comunque dalla vittima è quella dell'aggressione a scopo di rapina. Però dato il vissuto dei protagonisti di questa vicenda, tutti gli scenari sono aperti. Diceva in conferenza stampa che è stata anche importante la collaborazione dei cittadini, dei residenti della zona. Assolutamente, ancora una volta Pescara non è omertosa. Abbiamo raccolto delle dichiarazioni importanti, dei riconoscimenti importanti dai residenti che hanno contribuito a cementare un castello accusatorio già solido. Cambiamo argomento, la Sangritana inaugura un nuovo servizio di trasporto merci internazionale che vedrà anche il trasporto in Germania dei campervan prodotti in Val di Sangro. I dettagli sono stati illustrati questa mattina a Lanciano dai vertici dell'azienda. Paolo Renzetti. Il campervan della Trigano sale sul treno di Sangritana Cargo, diretto in Germania. Per la prima volta Sangritana è main contractor di una commessa ferroviaria internazionale. La Trigano, infatti, per il tramite dell'operatore logistico tedesco Ars Altman, ha affidato all'impresa ferroviaria abruzzese il trasporto dei campervan che produce in Val di Sangro dal Terminan di Saletti a quello di Grossgerau in Germania. È la strada che abbiamo segnato, quella di mettere l'Abruzzo in condizione di poter competere con il resto d'Italia e d'Europa. L'inaugurazione di questa prima attività oltre frontiera della Sangritana, di portare le merci prodotte qui nel cuore dell'Abruzzo fino al cuore dell'Europa per poter essere commercializzate, serve proprio a dare il segnale chiaro di un Abruzzo che cambia passo, che vuole crescere e che vuole recuperare il gap infrastrutturale che ha messo in questi anni le aziende e l'economia abruzzese in condizioni di difficoltà o di minore competitività rispetto alla concorrenza. Cosa significa per Sangritana d'orina avanti trasportare il campervan? Per noi significa affermare una capacità organizzativa industriale che non è più limitata alla manovra. Abbiamo proiettato delle slide che rappresentavano la nostra storia. Abbiamo iniziato con delle attività di manovra sul porto di Ortona piuttosto che sulle attività giù a Saletti per Sevel. Per Sevel oggi siamo un'impresa per roviaria a tutto tondo. Problematiche diverse saranno affrontate per quello che riguarda invece il segmento gomma che per questioni connesse alla pandemia ha avuto problematiche altre. Viceversa sul cargo si cresce e si cresce in modo esponenziale. È un elemento che sta portando sul territorio nuova produzione, nuove aziende, nuova possibilità non solo di investimento ma anche di assunzione. e quindi la regione Abruzzo che ha deciso di spendere su questo territorio oltre 61 milioni di euro e la tua che ne è soggetto a Totore, insieme alle capacità relazionali che la Sangritana ha dimostrato di avere saranno un cocktail assolutamente importante per continuare a far sviluppare questo territorio. Andiamo a Teramo, un progetto di riqualificazione del parco fluviale dal valore complessivo di 8 milioni di euro è stato illustrato questa mattina dall'amministrazione comunale. Progetto importante, ambizioso di circa 8 milioni di euro complessivi che ovviamente sarà modulare, che ci consentirà di intervenire per step sul nostro parco su cui siamo già intervenuti con una cura e manutenzione nel corso di questi anni ora è il momento della riqualificazione complessiva, della valorizzazione del parco una risorsa unica, fondamentale che abbiamo per la nostra città un primo blocco di interventi che ovviamente riguarderà due nodi del parco sarà avviato subito, subito dopo l'estate con le risorse già a disposizione e ovviamente candideremo il progetto a tutti i canali di finanziamento il contratto di istituzione di sviluppo, vedremo quali saranno anche le risorse messe a disposizione dal contratto e a ogni altro canale ovviamente in primis il recovery, ma finalmente abbiamo una progettazione importante il nostro parco è una risorsa straordinaria ed è importante perché questo progetto che nasce dalla partecipazione, nasce dall'iter di ideate perché lì sono arrivate le richieste lì sono arrivate le proposte, le iniziative che si andranno anche ad integrare con questo progetto lo andranno anche ad arricchire, vivrà ulteriori fasi di confronto con la città nello svolgimento e nell'avanzamento dell'iter progettuale Il parco sarà a tutti gli effetti un parco urbano in cui verrà realizzata una pista ciclopedonale in terra stabilizzata, colorata, così come tutti gli elementi che lo caratterizzeranno avranno un unico colore distintivo gli accessi al parco saranno caratterizzati da dei totem che poi a varie scale determineranno all'interno del parco tutte le strutture di servizio quindi diventeranno lampioni per l'illuminazione, fontanelle, parchi giochi e piazze all'aperto per sostare all'ombra e soprattutto verranno, sono state progettate e verranno realizzate delle casette quelle che noi chiamiamo casette che sono delle piccole strutture che saranno utili ad ospitare servizi servizi ristoro, centri educativi, aree di bike sharing o piccole biblioteche e tutto sarà realizzato con materiali naturali e tutto impostato alla massima sostenibilità dell'intervento Vanno avanti i lavori di messa in sicurezza del porto di Giulianova tra gli interventi e anche il ripristino del muro paraonde nel servizio le parole del vicepresidente dell'ente porto Fabrizio Bonaduce L'ingegnere Bonaduce Fabrizio nel consiglio di amministrazione vicepresidente dell'ente porto lei si occupa anche di seguire i lavori al porto di Giulianova delle opere importanti, tanti settori, tanti lavori e soprattutto ci sono anche lavori in cantiere, cioè progetti che stanno per attuarsi Sì assolutamente, come diceva lei all'interno del consiglio di amministrazione ci siamo separati un po' i compiti io ho il compito di seguire essendo un tecnico il monitoraggio dei lavori che si stanno realizzando e dei progetti che stiamo proponendo e proporremo al momento abbiamo già alle nostre spalle qui c'è una messa in sicurezza della banchina di Riva che aveva avuto un cedimento della sede stradale e la regione con il genio civile e opere marittime sta realizzando appunto la messa in sicurezza e rinforzo e una cosa analoga verrà fatta sul molo nord sempre sul molo nord stiamo realizzando un ripristino del muro pararonde sostituendo i mattoni ammalorati e soprattutto un cordolo di cemento armato che a causa dell'intemperia si era disgregato sempre su tutta l'area portuale stiamo facendo una manutenzione delle torri faro perché è prevista la sostituzione dei fari alogeni con dei nuovi fari a led attualmente stiamo facendo una verifica delle torri perché essendo state installate più di 30 anni fa prima di procedere alla sostituzione ci stiamo verificando anche stiamo verificando che le torri siano in buono stato e quindi non arrechino problemi alla sicurezza sempre nel molo nord e quindi lato pesca verranno realizzate delle tettoie per il ricovero degli operatori in particolare per coloro che devono rassettare le reti da pesca saranno delle tettoie lunghe che quindi consentono di coprire tutta la rete svolta quindi sono solo a 50 metri le tettoie diciamo anche i tempi di consegna quando saranno pronte queste opere? quando saranno realizzate? la fine lavori? allora per il muro abbiamo una fine lavori prevista per metà luglio per il muro pararonde i lavori di messa in sicurezza del manto stradale avranno termine circa una ventina di giorni quindi fra una ventina di giorni verrà rimosso il cantiere sulle torri faro stiamo aspettando la relazione tecnica di verifica statica oltre a quello verranno installati 4 defibrillatori su tutta l'area portuale che riguarda la pesca e verrà realizzata una condotta di acqua salata per la pulizia delle attrezzature da pesca Pescara ospiterà il 18 e 19 giugno Bike Summit la nuova sfida del turismo sostenibile saranno due giornate intense in cui passeremo il testimone dell'Oscar italiano del cicloturismo alla prossima regione che conosceremo dopo domani è un importante evento perché ci gratifica del riconoscimento ottenuto l'anno scorso con la via verde e la costa dei Trabocchi l'Abruzzo ha 130 km di costa che rappresentano comunque il core business del turismo abruzzese ma è evidente che quello del cicloturismo del turismo del lento, del trekking rappresentano un valore aggiunto per il mercato turistico abruzzese Assessore l'obiettivo è quello di avere una regione sempre più ecosostenibile Assolutamente sì partiamo da una cosa che l'Abruzzo è comunque la regione verde d'Europa con i suoi tre parchi nazionali un parco regionale e innumerevole riserve protette è evidente che questo è un patrimonio che va valorizzato e grazie forse al Covid che l'anno scorso ha fatto sì che le persone si volessero sempre più isolare abbiamo conosciuto spazi in Abruzzo che spesso non erano mete di turismo i dati in nostro possesso ci confermano che sarà una stagione estiva con numeri importanti ovviamente i numeri più importanti li faremo come al solito sulla costa ma anche l'interno le zone montane vorrei ricordare che purtroppo il turismo montano il turismo invernale è stato totalmente zerato dal Covid ma c'è una grossa riscoperta appunto del turismo lento e sostenibile la scoperta dei borghi di tutto il nostro patrimonio no gastronomico e comunque abbiamo dati molto incoraggianti questo weekend sarà un insieme di iniziative da un lato avremo domani la presentazione al Bike Summit anche di un'anteprima dei dati sul cicloturismo e sullo studio che facciamo ogni anno insieme a ISNART e Union Camere e Camere di Commercio quindi anche la presenza della Camera di Commercio Chieti Pescara dall'altro ci sarà il premio il Green Awards che rappresenta un momento dentro la regione Abruzzo per parlare del cicloturismo a livello nazionale di quelle che sono le realtà più belle e qui torniamo sul nostro progetto regionale che è la Bike to Coast in particolare il tratto della costa di Trabocchi e che trascina dietro un'altra iniziativa importante che arriverà a ottobre che è appunto Art Bike & Run che sarà un'iniziativa che metterà a sistema l'intero territorio ciclabile della costa di Trabocchi e che parla di arte turismo attivo vacanza attiva e al tempo stesso di valorizzazione culturale e gastronomica di quel territorio Siamo così giunti allo sport in primo piano la telenovelassa che sta tenendo i tifosi bianca-azzurri con il fiato sospeso a giorni in Pescara ufficializzerà i nuovi direttore sportivo e allenatore sul primo fronte torna in auge il nome di Luca Matteassi mentre Gaetano Auteri è da tempo il principale candidato alla panchina facciamo il punto con Andrea Costantini A distanza di 40 giorni dalla matematica retrocessione in Serie C e a 11 giorni dalla data del 28 giugno termine perentorio per presentare la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato non ci sono annunci ufficiali da parte del Pescara chi sarà il nuovo direttore sportivo chi sarà il nuovo allenatore ma non solo che fine faranno i direttori in scadenza in questo mese e mezzo si è ventilata sempre l'ipotesi di un nuovo incarico per Antonio Bocchetti nello scouting e Giorgio Repetto resterà senza contratto per il settore giovanile si dovrebbe continuare con Giuseppe Geria il condizionale va usato non tanto perché c'è dubbio sulla permanenza del dirigente calabrese quanto per il fatto che possa essere ancora un papabile per la carica di direttore sportivo anche se negli ultimi giorni le sue quotazioni per quell'incarico sono in ribasso e proprio su questo ruolo così delicato la questione è più nebulosa tanti tantissimi nomi sono circolati tra questi c'è chi un contatto vero e proprio non l'ha mai avuto col Pescara chi invece è stato vagliato ma non ha più contatti da tempo è il caso di Pietro Fusco il cui nome resta tra i possibili ma fino a ieri non aveva avuto altri contatti col club biancazzurro Fusco che è ancora legato contrattualmente alla San Benedettese per altri 12 mesi nelle ultime ore torna invece a circolare un nome già accostato al Pescara a metà maggio si tratta di Luca Matteassi la differenza rispetto ad allora è che Matteassi ora è libero avendo risolto due giorni fa il contratto che lo legava al Modena fino al giugno 2022 la nuova proprietà emiliana ha puntato su un altro direttore ma il fatto che la risoluzione sia arrivata in questi giorni può essere un indizio sul fronte allenatore Gaetano Auteri è il nome prescelto si attende ancora la comunicazione della risoluzione del contratto con il Bari prima di potersi legare al Delfino se poi sarà ufficializzato lo stesso Auteri e non ci saranno colpi di scena resterà da capire se e come sarà stato il neo DS a vagliare ed eventualmente scegliere il neotecnico Sebastiani ha più volte dichiarato che sarebbe stato annunciato prima il direttore sportivo e poi l'allenatore poiché il DS avrebbe dovuto fare la scelta d'accordo con la società ma il nome di Auteri è forte da settimane quello del DS no è arrivato per il momento degli annunci se non sarà domani subito dopo e poi si penserà anche al raduno date luogo e quindi l'organico il suo allestimento sicuramente la società si è mossa in queste settimane ma questa è la fase in cui imprimere un ulteriore cambio di passo per approntare la stagione del rilancio sono estremamente ridotte le speranze playoff per il Castelnuovo che già domani tornerà in campo nel recupero di Recanati ieri però la squadra di Guido Di Fabio si è fatta raggiungere in pieno recupero dal Rieti vanificato così il gol di De Giglio e le prodezze del portiere Olivieri Roberta Di Sante Terzo ultimo atto per il Castelnuovo che ospita al comunale il Rieti e che venerdì sarà atteso a Recanati nel recupero contro i Leopardiani per poi chiudere la stagione domenica contro il Giulianova senza guido di Fabio in panchina e capitante Renzi o squalificati il viceferretti schiera Morganti e Endoi al centro della difesa in attacco rientra Fagioli nel tridente con Manari e Di Ruocco assenze pesanti anche in casa Rieti Raffaele Battisti deve rinunciare al difensore zona fermato dal giudice sportivo per ben quattro giornate a cui si aggiunge la squalifica di Marchi nel 3-5-2 e Mattei a dettare i tempi in avanti la coppia Vali d'Alessandris gara molto equilibrata in avvio con le due squadre che si annullano a vicenda bisogna attendere il 26esimo per vedere la prima vera occasione dell'incontro quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo d'Alessandris a calcia a botta sicura da distanza ravvicinata costringendo Olivieri ad un vero e proprio miracolo salva i suoi l'estremo locale che tiene la partita sullo 0-0 ancora Vieti pericoloso al 32esimo con il colpo di testa ad incrociare di Vali che esce fuori di poco break dei locali al 35esimo con la conclusione da fuori di Fagioli che termina fuori bersaglio ma un minuto più tardi è ancora una volta Olivieri ad essere decisivo per i suoi disinnescando la conclusione ravvicinata di un mobile Vali la prima frazione termina così senza reti in apertura di ripresa un cambio per parte il Vieti sostituisce Nobile con Esposito mentre il cancel nuovo inserisce Lorenzo Emili per Basilico tornando al classico 4-2-3-1 ma la prima conclusione nello specchio della porta è per i Laziali che al settimo vanno due volte alla conclusione prima con Esposito poi con Vali ma in entrambi i casi si trappone con efficacia ancora una volta un super Olivieri che dice no anche un minuto più tardi a Mattei guadagnandosi la palma di migliore in campo per i locali locali che al 14esimo si fanno vedere con una punizione dal limite di Loviso che termina di poco alta sulla traversa il Castelnuovo alza il baricentro e un minuto più tardi ancora Loviso prova direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo con l'estremo laziale che si salva con l'aiuto della traversa e sugli sviluppi del corner successivo il Castelnuovo va vicinissimo al vantaggio Fagioli rimette in mezzo per l'accosente Morganti che incredibilmente spreca da due passi la pressione dei locali si concretizza al minuto 20 con una grande azione personale di degidio che si incunea in area dalla destra supera due avversari si accentra e deposita in fondo al sacco la rete dell'1-0 e l'undicesimo centro stagionale nel secondo tempo il Castelnuovo suona tutta un'altra musica e al ventottesimo potrebbe anche raddoppiare ma Fagioli di testa è impreciso e spreca da ottima posizione alla mezz'ora problemi muscolari per Lorenzo Emili costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco al suo posto entra Gentile al 34esimo si fa rivedere i rieti in avanti con un diagonale di D'Alessandris che chiama ancora una volta la respinta coi piedi Olivieri prova a complicarsi la vita il Castelnuovo al 40esimo ingenuo Fagioli va al contrasto con Montesi nel tentativo di recuperare la sfera e rimedia il secondo cartellino giallo di giornata lasciando i suoi in 10 nel finale e al 41esimo il rieti tenta il tutto per tutto con il tentativo in rovesciata di Tunkara ma Olivieri dice ancora una volta no ma in pieno recupero al 49esimo quando il Castelnuovo pregustava già la vittoria il rieti pareggia D'Alessandris si libera così di degidio il direttore di gara non ravvisa il fallo tra le proteste locali la sfera arriva a Esposito che in extremis fa 1 a 1 termina tra le proteste Neroverdi al comunale con un pareggio che ha il sapore della beffa per il Castelnuovo che così vede ridursi al lumicino le ultime speranze playoff la vastese si conceda dal pubblico dell'Aragona con la vittoria di misura sul già retrocesso Porto Santelpidio il successo di misura è ancora targato Martiniello domenica alle 15 ultima di campionato per le aragonesi in casa della Recanatese la vastese saluta i suoi tifosi con la vittoria di misura sul Porto Santelpidio nell'ultima casalinga della stagione Biancorossi hanno superato per 1 a 0 la formazione marchigiana già da qualche settimana matematicamente retrocessa grazie ad una rete di Martiniello in apertura di ripresa gara quella dell'Aragona senza assili di classifica e dunque godibile primo squillo al settimo minuto con la punizione di Obodo il colpo di testa di Martiniello che a due passi da Cavalieri impatta di testa centralmente al ventesimo ancora Biancorossi pericolosi con un'azione fotocopia della precedente angolo di Obodo e colpo di testa dell'attaccante aragonese che manca di pochissimo il bersaglio grosso gara giocata a ritmi bassi e con il prevedibile pallino del gioco in mano ai ragazzi di Dadderio i marchigiani però si difendono con ordine non disdegnando qualche sortita in avanti al ventiduesimo minuto Martiniello per Lavastese ci prova per la terza volta girando in area un cross di D'Arra e trovando questa volta una deviazione in angolo attacca Lavastese che al trentanovesimo arriva ad un passo dal 1 a 0 con il portiere marchigiano che con un grande intervento nega il gol a D'Allò al quarantaduesimo ci prova D'Arra ma la mira non è delle migliori il primo tempo finisce così sullo 0 a 0 ma in avvio di ripresa al quinto Martiniello al quarto tentativo non sbaglia mettendo la sfera di testa alle spalle di Cavalieri su angolo di Obodo vantaggio meritato per la formazione del presidente Bolami che non paga dell'1 a 0 continua a spingere al decimo proteste abruzzesi per un prosenuto tocco con la mano in area marchigiana di Aliffi su cross di di Arra ma Striamo di Salerno lascia proseguire al ventunesimo arriva il primo vero tiro in porta ospite con Perri che su punizione chiama alla parata di Rienzo al ventiquattresimo lo stesso Perri per gli ospiti approfitta di un rimpallo ma dal limite sfiora l'incrocio al trentaseiesimo si rivede così la squadra di casa con il neoentrato Lenoci che dall'interno dell'area di rigore allarga troppo il compasso mettendo il pallone al lato il finale di partita non regala poi altri acuti con i biancorossi che escono dall'Aragona fra gli applausi dei 200 presenti domenica ultima della stagione a Recanati e poi tutti al mare con la società però chiamata a programmare già tra qualche settimana la nuova stagione stavolta tutto come nei piani il Chieti vince a Capistrello e ottiene la promozione in serie D per il tecnico Lucarelli che è tra gli artefici principali di questo successo ci sono le condizioni per proseguire il percorso con i neroverdi anche per la prossima stagione nella serie superiore vediamo il Chieti non sbaglia il secondo match point batte il Capistrello e con un turno di anticipo torna in serie D a distanza di una stagione accade quasi tutto nel primo tempo dopo un paio di conclusioni dalla distanza di Mariani una di queste parata dall'estremo di casa Franchi il Chieti come accaduto contro l'Avezzano prova a complicarsi la vita da solo Forti nel tentativo di mettere una pezza su un retropassaggio di consorte in area di rigore commette fallo su De Rocis che stava approfittando del regalo della difesa Teatina dal dischetto Franchi però si fa ipnotizzare da Forti che si fa perdonare del precedente errore dalla cintola in su i neroverdi hanno qualità di tutto rispetto e da una giocata in verticale Fabrizi con un mancino ad incrociare a portare avanti il Chieti e come domenica scorsa va a festeggiare con i propri tifosi Luca Relli si sgola tantissimo per mantenere alta la concentrazione dei suoi difensori che commettono un'altra leggerezza al ventesimo quando Luca Rino ingenuamente stende in area di rigore un avversario dal dischetto questa volta però Ravantozzi che c'entra in pieno la traversa si salva ancora una volta il Chieti che poi è fortunato nell'azione che porta al 2-0 calcio d'angolo ben messo in mezzo da Mariani Fanti nell'intento di respingere quei pugni infila la sfera nella propria porta sul finale di prima frazione potrebbe mettere già in ghiaccio la gara il Chieti ma la conclusione improvvisa di Fabrizi dai 35 metri si stampa sulla traversa con Fanti immobile nel secondo tempo poco o nulla da segnalare se non il tiro di Girolamo che prova a riaprire la partita con una conclusione da fuori bravo e fortunato forti a salvarsi con l'aiuto della traversa e il gol del 3-0 del Chieti grazie a Rodia bravo a mettere in rete un cross a centro aria di Mariani la gara praticamente finisce qui il capistrello tira i remi in barca mentre il Chieti non affonda praticamente più così al triplice fischio finale parte la festa per il coronamento di un traguardo fortemente voluto dalla dirigenza dopo la brutta retrocessione di un anno fa poi la festa si sposta allo Stagli Angelini per l'abbraccio tra la squadra e la propria tifoseria bisogna stare sempre tranquilli l'abbiamo vinto nelle prime nove partite che abbiamo preso quel vantaggio impensabile da colmare un po' d'ansia ti viene il braccino corto però ripeto l'esperienza è questa quindi noi siamo felici strameritato non credo che nessuno possa dire niente le partite giuste le abbiamo indovinate tutte le abbiamo vinte con merito c'era bisogno di gestire tanti giocatori e c'è bisogno quindi di organizzazione e l'abbiamo fatto abbiamo sopperito l'assenza perché nessuno deve dimenticare che Verna l'abbiamo perso abbiamo perso corticchia che sta in un momento molto positivo abbiamo perso anche altri giocatori filosa e invece noi non abbiamo indietreggiato quindi penso veramente non c'è stata storia secondo me in questo campionato quindi un percorso che continuerà con mister Lucarelli questo bisogna chiedere alla società le premesse volendo ci sono tutte però poi i discorsi vanno fatti con calma naturalmente io mi trovo benissimo la società pure ha dimostrato di avere massima stima nei miei confronti quindi poi queste sono cose che ragioneremo dopo perché adesso bisogna solo festeggiare perché riportare i chiedi in D ragazzi tanta roba manca poco a fare il sogno di tutti i teatini mi fermo qui dai e questa era l'ultima notizia vi ricordo che questa sera alle ore 21 torna a velò di Luciano Rabottini e Jacopo Vorcella l'informazione invece tornerà come sempre alle ore 23 con l'edizione della notte grazie e buona serata grazie a tutti